Cari amici della Scuola di Filosofia di Fornace, con questo video vorrei concludere la trattazione del libro di Sant'Alfonso Maria degli Uori, Le Glorie di Maria, un libro la cui lettura raccomando a tutti, specialmente in questo mese di maggio. Dovevamo analizzare ancora brevemente la trattazione di quelle che sono le virtù di Maria Santissima e parleremo in questo video appunto di quelle che sono le dieci virtù principali di Maria. Innanzitutto cominciamo con il dire che Maria chiama beati tutti coloro che diligentemente imitano la sua vita. Dice nei proverbi 8,32 Ora figli ascoltatemi, beati quelli che seguono le mie vie. Proprio imitare Maria è il maggior ossequio che il cristiano possa tributarle. Maria piena di grazia, purica di tutte le virtù e peraltro in grado eroico. Cominciamo dalla prima virtù che è il fondamento di tutte le altre virtù, ovvero sia l'umiltà. L'umiltà dunque è il fondamento e la garanzia di tutte le virtù. Lo stesso figlio di Dio venne al mondo a insegnarla con il suo esempio e richiedendo peraltro anche qui di imitarla. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, dice in Matteo 11,29. Maria ne fu la prima e più perfetta discepola. Vediamo allora alcune caratteristiche della virtù dell'umiltà. La prima caratteristica di chi è umile è avere un basso concetto di sé. Ora, Maria si sentì sempre così bassa che, sebbene piena di grazia, non si preferì mai a nessuno. Ovviamente non giunse mai a stimarsi peccatrice perché l'umiltà comunque va di pari passo con la verità e Maria sapeva di non aver mai offeso Dio, così come sapeva di aver ricevuto da Dio grazie maggiori rispetto agli altri creature. Ma ella, proprio in virtù della maggior luce che aveva per conoscere la grandezza e la bontà di Dio, maggiormente riconosceva anche nel contempo la sua piccolezza. Maria aveva sempre un rapporto attuale con la Divina Maestà e con il suo nulla. Scrive Sant'Alfonso. Proprio come una mendica, se ella è rivestita ad una veste ricca donata, non se ne insupervisce. Ma in vederla più si umilia innanzi al suo donatore, mentre allora più si ricorda della sua povertà. Così Maria quanto più si vedeva arricchita, più si umiliava, ricordandosi che tutto era dono di Dio. Ondella stessa disse a Santa Elisabetta Benedettina, sappi bene che io mi ritenevo la più spreggevole e indegna della grazia di Dio. Che perciò disse San Bernardino, non v'è stata creatura al mondo più esaltata, perché non v'è stata creatura che più si è umiliata come Maria. Un'altra caratteristica dell'umiltà è che è atto di umiltà occultare i doni ricevuti. Maria celò a Giuseppe stesso la grazia di essere stata fatta madre di Dio, ancorché rivelarlo a Giuseppe avrebbe almeno tolto lo sposo dai sospetti. Egli meditò di lasciarla in sagreto, come sappiamo dai Vangeli, e se non fosse intervenuto l'angelo a spiegare il dono di Maria a Giuseppe, forse questo sarebbe avvenuto per davvero. Ancora, altra caratteristica dell'umiltà, l'umiltà rifiuta le lodi per sé e tutte le riferisce invece a Dio. Così, alle parole dell'arcangelo Gabriele, Maria si turba. A queste parole faranno da contraltare quelle di Maria nel magnificat, dove la Madonna dice, l'anima mia magnifica il Signore, il magnificat nel Vangelo di Luca, straordinario. Come a dire a sua cugina Elisabetta, tu lo di me, ma io lo do Dio, a cui solo si deve l'onore. E prosegue il magnificat con altre parole di grandiosa umiltà. Ancora, tipico dell'umiltà è porsi al servizio altrui, e Maria andò a servire la cugina Elisabetta per tre mesi. Di più. Gli umili si ritirano e si eleggono il peggior luogo, e Maria si pose sempre nell'ultimo luogo, anche nel Cenacolo, quando la Madonna e gli Apostoli rimasero in preghiera in attesa della discesa dello Spirito Santo. Ancora, gli umili amano i disprezzi, e Maria non comparve in Gerusalemme nella Domenica delle Palme quando il Figlio venne esaltato, ma scelse invece di comparire in pubblico sul Calvario. Conclude San Gregorio Nisseno. Non va dubbio che alla nostra natura, corrotta dal peccato, non v'è forse virtù più difficile a praticare che la virtù dell'umiltà. Ma non v'è rimedio, non mai potremo essere veri figli di Maria se non siamo umili. E questa quindi era la prima virtù. La seconda è quella della carità verso Dio, che va di pari passo con l'umiltà. Maggiore l'umiltà, ci spiega Sant'Alfonso, maggiore la carità verso Dio. Completamente vuota di sé, ecco che Maria fu piena invece di amore per Dio. Il precetto amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore verrà dagli uomini pienamente soddisfatto soltanto in paradiso, ma Maria lo soddisfoggia qui, sulla terra, già in vita. In effetti non sarebbe stato conveniente alla divinità, a Dio, dare un precetto che nessuno fosse in grado di praticare perfettamente, in maniera integra. Lo fece Maria. Se Dio venne in terra ad accendere nei cuori di tutti la fiamma del divino amore, ebbene tale fiamma divampò sempre nel cuore di Maria, ove mai nulla di mondano entrò a inquinare tale disposizione. I demoni non poterono mai avvicinarsi a lei, neppure lontanamente. Maria non amava Dio ripetendo gli atti di amore, come invece accade normalmente ai santi, ma amava Dio con un unico e continuo atto, persino nel sonno, persino il sonno non le impediva di amare Dio. La terza virtù è la carità verso il nostro, verso il prossimo, che va di pari passo con la carità verso Dio. Chi ama Dio ama anche il proprio fratello, due amori che sono imposti dal medesimo progetto. Questo è il comandamento che abbiamo da lui, spiega Giovanni nella sua lettera, nella sua prima lettera. Chi ama Dio ami anche suo fratello. Ora, non essendovi stata creatura che più abbia amato Dio se non Maria, ecco che Maria amò più di tutti anche il prossimo. Come già affermato più volte negli scorsi video dedicati alle glorie di Maria, Maria soccorre il prossimo prima ancora di esserne richiesta, come è evidente per esempio nell'episodio delle nozze di Cana, quel non hanno più vino di cui ci parla l'evangelista Giovanni. Questa affermazione, non hanno più vino, mostra la premura con la quale la Vergine Santissima desidera sollevare il prossimo dalle sue sofferenze. Ora che ella è in cielo, ovviamente, questo amore non è affatto diminuito e anzi è elevato al massimo livello possibile. Non vi è persona che preghi e che non riceva grazie per la carità di Maria, che è madre dell'amore e della speranza. Quarta virtù è quella della fede. Maria infatti è anche madre della fede. Con la sua incredulità, Eva volle invece credere al serpente. Mentre con la sua fede, Maria credette alle parole di Gabriele. Pur rimanendo vergine, ella sarebbe divenuta madre di Dio. Il suo consenso all'incarnazione aprì le porte del paradiso agli uomini. Tanta fu la fede di Maria, che così commenta Sant'Anfonso, con questa citazione bellissima che vale la pena ripetere più e più volte. La Santa Vergine ebbe più fede che tutti gli uomini e tutti gli angeli. Vedeva ella il suo figlio nella stalla di Betlemme e lo credeva il creatore del mondo. Lo vedeva fuggire da Erode e non lasciava di credere che egli fosse re dei regi. Lo vide nascere e lo crede eterno. Lo vide povero, bisognoso di cibo e lo credette signore dell'universo. Posto sul fieno e lo crede onnipotente. Osservò che non parlava e crede che egli fosse la sapienza infinita. Lo sentiva piangere e credeva essere egli il gaudio del paradiso. Lo vide finalmente nella morte vilipeso e crocifisso, ma benché negli altri vacillasse la fede, Maria stette sempre ferma nel credere che egli fosse Dio. Citazione davvero commovente e toccante. Grazie alla fede, Maria meritò di essere fatta a luce di tutti i fedeli. La Chiesa le attribuisce la sconfitta di tutte le eresie, dicendo, rallegrati Vergine Maria, fu sola e sconfitto tutte le eresie sul mondo intero. Noi dobbiamo imitare la fede di Maria, e scrive Sant'Alfonso. Diogene andava cercando in terra un uomo, il famoso cerco l'uomo. Ma Dio, fra tanti fedeli che vi sono, par che vada cercando un cristiano. Mentre molti sono, mentre molto pochi sono quelli che ne hanno le opere, la maggior parte ne hanno soltanto il nome. La quinta virtù è quella della speranza. Dalla fede nasce la speranza. A tal fine Dio ci illumina con la fede alla conoscenza della sua bontà e delle sue promesse, affinché ci solleviamo con la speranza al desiderio di possederlo. Maria visse sempre staccata dal mondo, che giudicava un deserto, non confidava nelle creature né nei meriti propri, ma soltanto in Dio. E lo faceva a tal punto, ci spiega Sant'Alfonso, che quando concepì di Spirito Santo, non svelò il segreto nemmeno allo sposo Giuseppe, tutto affidando invece alla Divina Providenza. Stessa cosa quando non trovò posto neanche negli uspizi dei poveri a Betlemme, e dovette far nascere il bimbo deponendolo sulla mangiatoia di una stalla, così anche durante la fuga in Egitto. Eppure durante le nozze di Cana, quando il figlio relispose, non è ancora giunta la mia ora, ma Maria era sicura della grazia che il figlio avrebbe concesso, tanto da dire ai responsabili di sala, fate quello che vi dirà. Il cristiano deve dunque imparare da Maria a confidare in Dio soprattutto per la salvezza eterna. Siamo alla sesta virtù, che è quella della castità. Con il peccato originale, lo sappiamo bene, il senso si ribella alla ragione. La virtù della castità è la più difficile da conservare e da praticare. Per essa, dice Sant'Agostino, quotidiano è il combattimento, ma rara è la vittoria. Maria è vergine delle vergini, la prima che offrì interamente la sua verginità a Dio, senza riceverne consiglio né avere esempi precedenti da imitare. La sua purezza era talmente grande da spingere la castità chiunque la vedesse. Pur di mantenere la verginità, Maria sarebbe stata anche disposta a rinunciare alla dignità di madre di Dio. Dice all'angelo, come è possibile, non conosco uomo infatti. Ma una volta chiarito il tutto conferma, si faccia di me secondo la tua parola. Qui Sant'Alfonso ci suggerisce alcuni mezzi per conservare la castità. Ne suggerisce specialmente tre. Innanzitutto il digiuno, cioè la mortificazione, specialmente degli occhi e della gola. Non vi è quindi soltanto il digiuno dal cibo, ma vi è anche il digiuno dalle immagini. Maria guardava sempre in basso, non fissava mai nessuno. Secondo alcuni autori si nutriva soltanto di latte prendendone una volta al giorno, quindi digiuno degli occhi e della gola. Il secondo mezzo è la fuga delle occasioni. San Filippo Neri insegna che nella guerra dei sensi vincolo il poltroni, cioè coloro che fuggono l'occasione. Maria fuggiva quanto poteva la vista degli uomini e pensiamo che nel caso del servizio prestato a Santa Elgabetta se ne andò poco prima che la cugina partorisse perché voleva fuggire la conversazione e le visite. Terzo mezzo è l'orazione. Maria stessa rivelò ad alcune sante che non ebbe alcuna virtù senza fatica e orazione continua. Ella non sopporta gli impuri, ma chi ricorre a lei sarà certamente liberato da questo vizio. La settima virtù è la povertà. Gesù voglia insegnarci a disprezzare i beni mondani con l'essere povero su questa terra. Maria ancora una volta fu la sua discepola più perfetta. Secondo alcuni autori avrebbe fatto persino voto di povertà. I doni ricevuti dai magi furono distribuiti ai poveri. Andando al tempio non offrì l'agnello, come facevano i benestanti, ma le due tortore e i due colombi, che era l'offerta riservata ai poveri. Ebbe per marito un falegname e si sostenne con le fatiche delle sue mani, filando e cucendo. Distribuì l'eredità avuta dai genitori ai poveri e come elemosina al tempio. Si dice che dopo l'assunzione Maria abbia lasciato in eredità esclusivamente due poveri vesti a due donne. Gesù dice, beati poveri in ispirito, perché di essi è il regno dei cieli. Matteo 5,3. Coloro che non vogliono altro che Dio trovano in Lui solo ogni bene e nella povertà il loro paradiso in terra. È per questo che dobbiamo anche pregare affinché Dio ci doni lo spirito di povertà. O perlomeno, come insegna Sant'Ignazio, l'indifferenza alla ricchezza e alla povertà, la vera indifferenza. Se il cristiano è afflitto dalla povertà, si consoli pensando a quanto anche la Sacra Famiglia sia stata povera. Ottava virtù è l'obbedienza. Questa virtù è ben espressa nelle parole, ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Con la sua obbedienza Maria riparò al danno fatto da Eva con la sua disobbedienza. L'obbedienza di Maria fu molto più perfetta di quella di tutti i santi, che avevano comunque l'inclinazione possibile al male, per via della colpa originale, che invece è assente in Maria l'immacolata concezione. A ogni ispirazione divina Maria si muoveva in maniera perfetta. Tale era la sua obbedienza che volle persino obbedire all'ordine imperiale del censimento, affrontando il lungo viaggio a Betlemme in tempo d'inverno, gravida e povera, dovendo poi partorire in una stalla. Con prontezza poi partì per l'Egitto quando l'Argelo l'ordinò a Giuseppe. Maria l'oda a tal punto l'obbedienza santa che Sant'Alfonso ci narra un aneddoto molto particolare. Apparve ella, Maria, apparve una volta un religioso francescano chiamato Accorso, nella di lui cella, ma quello, perché fu chiamato dall'ubbedienza ad andare a confessare un infermo, si partì. Quindi Maria appare nella cella di questo francescano, il francescano deve partire per confessare un infermo. Ritornato, il francescano, trovò che Maria lo stava aspettando ed ella molto lodò allora la sua obbedienza. Non a virtù la pazienza. Questa vita è una valle di lacrime, lo sappiamo, perché vi siamo tutti posti a patire, ma proprio attraverso la sopportazione dei dolori, ecco che questa valle di lacrime è anche luogo di merito. Dunque è fondamentale la virtù della pazienza, perché la sopportazione dei dolori delle croci passa tramite la virtù della pazienza, virtù della quale Maria ancora una volta fu esempio sommo. Tutti gli episodi della sua vita, del resto, ne sono testimonianza. È proprio la pazienza che fa i santi, che sopportano con rassegnazioni le croci che ci vengono da Dio, infermità, povertà eccetera, e anche dagli uomini, la persecuzione per esempio, le ingiurie. Come spiega San Gregorio, noi possiamo essere martiri anche senza strumenti di martirio, se siamo pazienti e se con pazienza sopportiamo le pene di questa vita. San Paolo nella seconda lettera ai Corinti 4,17 scrive «Il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria». Infine la decima virtù, l'orazione. Il Salvatore in persona insegna che bisogna pregare sempre, senza stancarsi. La perseveranza nell'orazione può apprendersi da Maria. La sua preghiera fu continua, sin dal primo istante in cui ebbe la vita e con la vita il perfetto uso di ragione. A tre anni si riterò nel Tempio per onorare Dio, alzandosi anche nel cuore della notte per pregarlo. In seguito, Maria avrebbe anche spesso visitato i luoghi della Natività, della Passione e della sepoltura del figlio. Amava sommamente il raccoglimento, non usciva mai di casa se non per andare al Tempio, ma sempre comunque modesta e raccolta. Così occorre pregare Maria finché ci dia affetto all'orazione e alla solitudine, in modo che il cristiano aspiri soltanto a Dio e al Paradiso. Nel Siracide, 24-26, è scritto «Venite a me, voi tutti che mi bramate, e sarete ricolmi delle mie generazioni». Le generazioni di Maria sono le virtù di Maria. Infine, a questo punto, per concludere davvero questo video e così, la trattazione di questo splendido volume di Sant'Alfonso, che raccomando nuovamente, anche a costo di ripetermi, in quale modo noi cristiani possiamo ossequiare Maria Santissima? Ebbene, i mezzi sono tanti. Sant'Alfonso ne suggerisce alcuni, che noi ripetiamo. La recita dell'Ave Maria, la recita delle novene, la recita del rosario e dell'ufficio, il digiuno, la visita alle immagini di Maria, l'elemosina in onore di Maria, il ricorso frequente a Maria, far celebrare messe in onore di Maria, riverire i santi più vicini a Maria, leggere qualche libro che parli delle glorie di Maria. Con questo concludiamo e ci diamo appuntamento alla trattazione di alcuni volumi futuri dedicati alla riflessione cristiana.